Però ancora non c'è l'annuncio, tieni conto che la Lega c'è una delegazione europea eletta quando Salvini aveva il 35%, significa che due terzi stanno a casa, quindi se arriva a raddacci toglie il posto almeno a... insomma è complicato. Quindi questo è il problema. Dall'altro lato nel PD sta accadendo un'altra cosa, sta accadendo, che Lich Line sta cercando delle candidature, cioè ha scelto delle candidature civiche, termine gabbato per dire delle figurine, da mettere come capolista e tutte quante, proprio a Tarquinio, sono un atto di sfiducia nei confronti del suo partito, sostanzialmente. O perlomeno vengono vissute così. Sono la seconda tappa delle primarie nella logica, diciamo, cioè io non valorizzo... Ti conto, le primarie, lei vinse all'esterno del suo partito, parte anche un po' contro e queste sono la seconda logica. Non si capisce quale sia la linea perché tutti quelli che si riempiono la bocca di pluralismo... Io capisco il pluralismo, ma Tarquinio è uno che, oltre ad essere sui diritti, un ultraconservatore, se non un reazionario, diciamo, cioè uno che sostiene che... Sì, c'è la questione ucraina che non è... Uno che dice che l'aborto non è un diritto della donna, diciamo, non... Poi sull'Ucraina metterebbe i fiori nei cannoni, diciamo, La mia amica Lucia Annunziata è, diciamo, atlantista, come si dice, a sette cavati, dieci cavati, eccetera. Insomma, io capisco il pluralismo, ma sui fondamentali... Forse un po' troppo, dici? Sui fondamentali, diciamo... Voglio sentire anche Claudio su questo.